Burroni bentornati in questo nuovo video di Marci qui su Marci Games Oggi nuovo video di Among Us veramente particolare Perché ho utilizzato una texture che fa diventare noob gli impostori e pro i crewmate Quindi qualcosa di abbastanza normale Vi voglio ricordare che questa sera alle ore 21 sarò in live su Twitch per seguire l'evento di Fortnite Ok seguitemi ragazzi è molto importante che mi seguiate e lasciate il follow qua sotto Se arriviamo a 300 abbonati in live farò un regalo incredibile E Marci e il suo cafferino vi dà buona visione per questo video di Among Us Ci vediamo questa sera, ciao Sono di nuovo il pro raga eh Io preferirei essere il noob in questo momento in realtà Però siamo i pro, va bene così Però cattivi eh Cattivi sincero Secondo me ragazzi self call di Johnny perché ha fatto, prima l'ha votato Anche voi Aspettate fermi tutti Ma di pali di Master eravamo scendere Uno alla volta, devi parlare Johnny perché è lui che ha trovato il caso Ero scanner, stavo salendo e mi sono ritrovato Nico Così Ma dove? Allora stavo facendo credo cavi Lì vicino a scanner No cosa c'è lì? Riccino? No no, vicino a dove si controllano i log Voi quindi Buddy Buddy, Ale, Loco e Master Io ero completamente da solo a fare weapons Dottore Vediamo Avvocato Quanti voti aveva Johnny raga? Tre 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 Oserei dire interessante Mi mancano solo due missioni a me No tre missioni perché mi manca anche due di Fix Wire Quindi tecnicamente ne faccio una qui e l'altra mi dovrebbe portare proprio dalla parte del reattore Ok, prima che diciate qualsiasi cosa Ho bisogno di sapere chi prima stava facendo gli asteroidi Prima li stavo facendo io Ok, Meet è uno e l'altro penso sia Johnny Perché? Perché ero stato tutto il tempo io agli asteroidi Meet prima Me l'hanno fatto notare in chat Sono in balcone Il balcone? Io verso la fine stavo agli asteroidi Io proprio alla fine avete chiamato che ero lì Ma scusa stavi sulla parte a destra o sulla parte a sinistra? Perché io stavo a sinistra Ma io ora sono in cafetteria No, gli asteroidi sono a sinistra dove c'è... Sì, a sinistra, sì Eh, io sono in cafetteria perché io, scusa Perché sei l'unico che mancava l'appello prima Comunque adesso lasciamo parlare del buon Chip Allora, io e l'oreattore sono sceso giù Scusa tutto il tempo d'oreattore E nel corridoio c'era il colpo di Bruce E' arrivata anche Ale nel mio stesso momento Io confermo che Ale non è stata perché era a fare le luci insieme a Loco Io ero in cafetteria ora Io ero al reattore Non ho fatto in tempo a scegliere Era proprio lì davanti all'uscita? Eh, sì Non ho fatto in tempo a vederlo allora Giovanni, io non ti ho visto in cafetteria però Ora Chi è che è sceso? Bene, corridoio, i mezzi, i computer Cioè, i mezzi, i mezzi Boh, io mi fido di voi Quindi ditemi in chi votare, dai Raga, votate, i voti sono anonimi No, è piccolo Va bene Io non avevo detto di votare i Meet, raga Ho detto, secondo me potrebbe essere Meet Non è che ho detto il tempo forzato Vabbè Secondo me, ragazzi, si è un po' impappinato a parlare il buon Meet Perché è un certo Devo capire, dov'è l'altro coso? Questo è South Adesso sono passato da Marchi South-West South-East-North E l'altro penso che sia questo qua, quindi Quello là in fondo penso che sia Launchpad Questo qua Ma dov'è che è l'altro, raga? Non capisco quell'altro sensore Non capisco dove sia Ah, forse va a vedere se si entra qua dentro, tipo Penso di sì Penso che possa aver senso come cosa Bene Molto bene, molto bene Succede Ho trovato, non so chi, alle luci Non vedevo il corpo Lo sentivo che sarebbe morto È loco, però lo sentivo Però posso dire che ho visto Buddy scendere da lì Io stavo facendo i cavi Raga, ricordatevi una cosa Ho visto un arancione passarmi davanti Non mi è neanche incrociato Come hai fatto a vedermi che non c'erano le luci Secondo me c'è solo un impostore, quindi io Non è Buddy Di Buddy penso di essere sicuro, dice Ale E se si fidale Potrebbe essere Master, quindi, ok Ok, ok Va bene, va bene, ok, va bene Cioè, no, no, va bene, va bene Adesso io mi piazzo qua subito Vado qua sotto E voglio vedere un attimo come è la situazione qua Allora Ale ha passato il sud Southwest Johnny, ok Nord Il Johnny ha passato il nord Può essere Johnny può essere che faccia questo giro qua Però non capisco cos'è che ci sia altro Se c'è qualcos'altro da capire Chip ha passato il sud, sud e sud Master, sud, sud, sud Sud-west Sarebbe quello di qua, ragazzi Chip l'ha ripassato Quindi sta tornando su Penso Complicata questa Però ci sta Molto carino Ok Chi erano? Erano Erano Di nuovo Gli giorni Allora Io prima Avevo dubitato di te Di sta cosa Però non ci avevo dato caso Io dicevo weapons E non collegavo weapons Ad asteroidi Oh Sono il noob Noob con gionnino Raga Ciao Mi dispiace Sei stato un valoroso Eroe Sei stato un eroe Myth Ok Subito Così Doppia Per altro Perché che uccide Myth No Ale è crashata Ah non è doppio Che Aspettate Aspettate Io Chip e qualcun altro Siamo puliti Perché stavamo entrando Bruce Stavamo entrando No wait Dov'è il cadavere? Decontaminazione Master Chi? Bruce e io Perché stavamo entrando Ok però master C'era vento Esatto A parte quello Tra di voi può esserci un altro impostore C'è uno può averla fatta E l'altro poteva cercare la fiducia degli altri Non so Io non ho proprio votato Mi ho schifato Non so Bella bella Questa mi piace un botto Raga Vediamo se qua c'è qualcosa da fare Io provo a far Fai finito di far questo Ok Vado via Io devo capire dove è la gente Però è quello che mi preoccupa Che non c'è gente in giro Bella questa mappa Però mi piace un sacco Bravo Johnny Andiamo a fare questa doppiettina Facciamo la doppia Johnny Ok Non lo so Rick Ok Event Ok andiamo di qua In admin Davanti alla cosa Devi mettere il codice Della carta Qualcuno ha ventato per forza Avevo lasciato Johnny in admin Io mi ricordo Qualcuno ha ventato per forza Perché c'eravamo Io Master e Johnny Che stavamo scendendo E avevamo lasciato Nico Che era uscito da office Peraltro in quel momento Noi siamo scesi Qualcuno ha preso la vent Chi è che c'era Ariattore? Io e Bruce Solo voi due Vi siete visti vicino Tutto il tempo? Io non ero arrivato adesso Che però era un po' Aspetta 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 Vi siete visti tutto il tempo No Io sono arrivato adesso Arrivo dal coso di decontaminazione Secondo me potrebbe essere O uno di voi due Che ha preso la vent Perché si può passare Da una parte a una Se avessi preso la vent Non sarebbe attivato Il coso di decontaminazione Marci ma Ma Johnny È rimasto con voi O è andato da qualche altra parte? Allora io non l'ho visto in realtà Gianni tutto il tempo Però alla fine Quando abbiamo lasciato Nico dietro di noi Io, Master e Johnny Siamo scesi E basta Aspetta aspetta No io ero in inferma Ora sono tipo All'entrata di caffetteria Quasi Io sono andato in Contaminazione ora Eh no sono andato a sinistra Esatto Ecco E la porta era aperta o chiusa Master? Era chiusa Non lo so raga Sta mappa C'ha mille vent Ma raga Ero con voi all'inizio Se non abbiamo scopato insieme il corpo Come ho fatto altrimenti Sniper cosa volevi dire Al volissimo Eh no che Vabbè Avevo visto C'è un tempo fa Passare in un punto C'è Troppo distante Era il tempo Diciamo Tra Vabbè però Sta partita è bella difficile Raga questa mappa Per fare il noob È bellissima È bellissima raga Per fare il noob È bellissima Mi piace un sacco Raga ve lo giuro Quanta gente c'è adesso Voglio capire questa roba qua Siamo 3,5 Siamo Siamo 3,5 Io voglio far fuori loco Sapete Ma sì Quasi faccio fuori loco Ma sì Ma sì Ma sì Loco 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 Ok Loco Secondo me Arriverà Prima o poi Qua Loco Arriverà Prima o poi Qua Io lo aspetto Lo aspetto Con molta ansia Oh 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 No Sapete che Non lo ammazzo Aspetto che arrivi Qualcuno qua Aspetto che arrivi Qualcuno qua Arriverà Qualcuno qua Dai Possibile che non arrivi Nessuno Ok Buono Ho trovato Locchino morto Allora Io ho lasciato Loco Sono andato In decontinuazione Lui stava Scendicavi Ho fatto le missioni In decontaminazione Sono sceso Sono tornato verso la V E c'era Loco morto Io ero in admin Era nella V Quindi Ormai ho dubbi Su tutti Sinceramente Allora Io già di prima T'ho scagionato Perché eri con me Però Potevi benissimo Adesso Che hai visto in admin Io ti ho visto in admin Però Loco scendeva dal coso Ne sono passati anche Altri primi Prima che mi hanno visto Quindi Sì Poi ero andato in radio A fare una task Poi so prenderlo due E poi puoi andare In decontaminazione Allora E' vero che può essere Chiunque Perché C'è L'eventore Che portano ovunque Io Non lo so Raga Dobbiamo votare qualcuno Secondo me Perché Ci sono due impostori Non so Sniper tu dove eri E' Al momento dei report E' in reactor E' in reactor Io non ti ho visto passare In reactor però Io l'ho visto in admin Ha fatto la tessera prima di me Eh ma io Io non l'ho visto entrare in reactor Io sono uscito da reattore Congratulazioni Abbiamo vinto Grandai Marchi Grandi raga Bravissimi Marchi e Gianni Insospettabili